Proseguono gli screening gratuiti a Pescara, oltre 10.000 cittadini si sono già sottoposti e test rapidi. Sindaco, risultati incoraggianti e anche una grande partecipazione della cittadinanza. Sono molto soddisfatto di quello che è successo in questi giorni a Pescara, perché non era facile, non era semplice, però devo dire che le cose stanno andando bene. Abbiamo finito in tempi brevi gli screening all'interno delle scuole con gli insegnanti e con il personale ATA. Siamo passati agli studenti e stiamo quasi completando il giro delle scuole superiori pescaresi. Poi abbiamo cominciato gli screening di massa nei tre punti prelievo di Pescara. Abbiamo fatto quasi, anzi oltre 10.000 tamponi e da questi numeri escono fuori soltanto 24 contagiati. È chiaro che è confortante questo numero, perché se su 10.000 tamponi fatti random troviamo 24 contagiati, quindi il ragionamento è che in città il contagio sicuramente è contenuto. L'attenzione dei cittadini alle prescrizioni ci ha permesso di arrivare al punto tale per cui con 10.000 tamponi troviamo 24 contagiati. Quindi mascherine, e lo continuiamo a dire sempre, distanziamento sociale e pulizia. Certo, poi ci sono pure quelli che sono gli irriducibili che ancora oggi pensano di non portare la mascherina. E con questi è veramente difficile ragionare, perché se dopo un anno di tragedie, dopo un anno di problemi, dopo un anno di attenzioni e di prescrizioni, ancora oggi c'è qualcuno che pensa allegramente di non portare la mascherina, vuol dire che è quasi impossibile convincerlo. E per questi sono necessarie le contravvenzioni. Però devo dire che io da sindaco sono molto soddisfatto dei miei concittadini e delle attenzioni che riservano a queste problematiche. Poi c'è il rovescio della medaglia. Noi abbiamo tante attività che stanno soffrendo in questo momento e qui io continuo a dirlo, faccio continuamente appelli al Governo, alla Regione, ristori immediati e ristori consistenti, perché non ci si può muovere con l'elemosina. Bisogna muoversi con risorse che permettono alle imprese di riprendere le attività e di farlo con tranquillità e con serenità, altrimenti noi rischiamo di distruggere un tessuto sociale ed economico che è stato sempre la forza della nostra città e anche della nostra nazione.